Un tenerissimo e terribile ultimo abbraccio. Le hanno trovati così i soccorritori dei Vigili del Fuoco, una mamma e il suo bimbo di appena 5 anni. Una tragica fine per una madre marocchina di 30 anni e il suo bambino, uccisi da un incendio divampato all'improvviso all'interno della loro abitazione di Via Roma, a Casa Leone. Unico superstite, il padre riuscito a mettersi in salvo, gettandosi dalla finestra della stanza da letto al primo piano. Un uomo che ora non sa darsi pace per non essere riuscito a salvare la sua famiglia. L'allarme è scattato lunedì sera, poco prima di mezzanotte. Stiamo cercando di capire di più, perché stanotte ovviamente ci siamo concentrati su quello che poteva essere il soccorso alla persona e lo spegnimento dell'incendio. Si stanno cercando di raccogliere maggiori informazioni per poter decifrare quello che è stato l'origine dell'incendio stanotte. Sul posto, oltre ai sanitari di Verona Emergenza e i vigili del fuoco di Legnago, anche i carabinieri. Secondo i primi accertamenti, l'incendio si sarebbe sviluppato all'interno del salotto. In breve tempo le fiamme hanno invaso tutta la zona giorno al primo piano, mentre il fumo denso ha avvolto anche le stanze al piano superiore, dove la famiglia stava dormendo. Sarebbe stata la donna, Nadia, ad accorgersi del fumo e ad avvisare il marito, Khalid, che ha immediatamente chiesto aiuto ai vicini, ma all'arrivo dei soccorritori, purtroppo per la mamma e il bimbo, Mohamed, non c'era già più nulla da fare. C'erano anche delle bombole all'interno che venivano usate per cucinare. C'è un termoconvettore elettrico, ci sono altre cose che potrebbero aver causato l'incendio, quindi non escludiamo nessuna causa, ma non ci sono elementi ancora chiari per poter dire che è stata l'una o l'altra causa. La famiglia Ola abitava in questa casa da circa tre anni. Erano in affitto regolarmente da un connazionale che, pare, invece non pagasse da tempo il mutuo acceso in precedenza.